Buonasera, bentornati in questo nuovo video ASMR su questo unico e inimitabile canale. Sto registrando questo video di ritorno da un brutto periodo di 3-4 giorni, dove ho avuto un fortissimo colpo della strega qui sul collo. Evidentemente qualcuno mi pensa. Questo nuovo video è dedicato a XXSU underscore Punisher XX. So che sembra che ho detto il suo codice fiscale, ma in realtà è il suo nickname sulla peviola su Twitch. Bentornato, vecchia volpe. O per meglio dire vecchio porco, tra gli abbonati del canale, questo video è dedicato a te. Allora, questo sarà un video sussurrato, whispering, in cui vi racconterò e vi farò un recap del mio primo anno in Germania. Oggi, data in cui registro il video, voi probabilmente lo vedrete più avanti. E qui dico con un peletto dal naso. Zack. Zack. Oggi è il 12 settembre per me, quasi 13, quasi mezzanotte. Io vivo in Germania più o meno da luglio 2023, quindi diciamo 14 mesi, 15 mesi, ormai ho perso anche il conto. Se volete, intanto vi posso sfuggiare un po' del tedesco che ho imparato. Vi faccio una piccola presentazione in tedesco, così per voi amici della comunità italiana. Potete vedere un po' come parlo tedesco, così potete immaginarmi parlare con i tedeschi. Guardate, breve presentazione. Hallo, guten Abend, meine Freunde, ich bin Marzo, ich mache ASMR für dich. Und jetzt, ich spreche auf meine Arbeit in dieses Jahr. Tschüss, Tschüss, bis bald. Tschüss. Bene, praticamente ho detto come mi chiamo, ho detto che vivo appunto da un anno in Germania e che faccio ASMR per te. Quindi, come sta andando questo primo anno in Germania, vi voglio proprio aggiornare per chi magari non sta proprio al passo coi tempi. Intanto vi consiglio di seguire il mio canale principale, non proprio, cioè io faccio video anche su un altro canale, che si chiama Marzo94. Credo che trovate il link in descrizione. Lì racconto tramite forma di vlog e video storytelling, diciamo, dove faccio anche un bel montaggio rispetto a quelli ASMR. Tutta la mia vita sottoforma un po' di viaggio, no? Cioè, il mio motto è mi piace vivere la vita come la voglio vivere, capite ragazzi? Io per esempio sono appassionato di moto, di viaggi in generale, camper, auto. e lì racconto un po' tutte le mie esperienze, vi faccio degli aggiornamenti con un montaggio ad hoc dettagliato. Quindi seguitemi lì e anzi commentate se avete delle richieste particolari, delle domande particolari. Bene, questo anno, ormai più che passato in Germania, diciamo che ci sono stati degli alti e dei passi. non è facile e soprattutto, cuccio la mia, cuccio la mia, molto più probabile, vieni qua a partire un bacio. Non è tutto oro quel che luccica. Cosa vuol dire? Vuol dire che se voi guardate appunto i miei video, le mie Instagram stories, le miei, le ogni tanto mostro da qualche parte, può sembrare una strada in pianura o in discesa addirittura per i più ottimistici, ottimisti, ma in realtà ragazzi trasferirsi all'estero comporta anche un forte stress, più che altro perché ci si deve adattare a una differente cultura, a delle differenti usi e costumi, no scherzo, in realtà i costumi sono uguali, ma gli usi sì, talvolta differiscono. Capita sovente che io do per scontato una cosa in realtà tanto scontata non è, come capita sovente allo stesso modo che qualcuno dà per scontato delle cose che per me non lo sono. Per esempio, qui in Germania nessuno, e dico nessuno, passa con il semaforo rosso. La prima volta che ho visto che appena scattava il semaforo rosso, tutti inchiodavano, ho detto ma che sta succedendo il terremoto? No, vanno così, praticamente nessuno parchegge in doppia fila, tutti o quasi tendono a rispettare i limiti e le leggi. Insomma, inizialmente ho avuto un buro shock, poi però devo dire che mi sono abituato. Per esempio, una cosa positiva di quest'anno, praticamente sin da subito ho trovato un lavoro, un lavoro che per molti può sembrare niente di che, si potrebbe ritenere un lavoro appunto umile ed effettivamente lo è, però mi permette di portare a casa, diciamo, facendo un part-time uno stipendio dignitosissimo, intorno anche a 1500 euro al mese, poi dipende da quante ore lavoro, però per farvi capire, la mia paga è di 13 ore l'ora, 13 euro l'ora, più bonus e più mance. E faccio il corriere, per il momento, senza saper parlare bene il tedesco, la lingua, lingua che, diciamo, è forse l'ostacolo più grande che dovrò superare, perché non è per niente facile impararla e soprattutto non è per niente facile capire quello che ti dicono, nonostante io ho già acquisito un discreto vocabolario tedesco, come ho tentato di dimostrarvi poco vacanzi. La più bella novità di quest'ultimo periodo è il mio gattino, Elio, che in questo momento sta dormendo accanto a me. No, ragazzo, no, non c'è più, era qui prima, ora sarà andato sul letto. Elio è un gattino che abbiamo preso durante le nostre ultime vacanze in Sicilia ed è fantastico. Ce lo stiamo crescendo io e la mia ragazza come un figlioletto e lui, devo dire, è molto affettuoso, giocoso e coccoloso. Quali sono gli obiettivi per il futuro? Gli obiettivi per il futuro sicuramente sono di migliorare la lingua e impararla il più bene possibile e provare a restare qui. Vi do anche un aggiornamento riguardante il mio ambito lavorativo. Mi avevano convocato per fare il professore a Pinerolo, provincia di Pinerolo, Torino, comunque in Piemonte. Non so, magari c'è qualcuno che non lo sa, ma io sono laureato in triennale in giornalismo all'università e magistrale in lettere, quindi posso insegnare a scuole medie, nelle scuole medie e superiori, italiano storia e geografia. devo dire che era un mio piccolo sogno diventare professore perché penso che mi piacerebbe come lavoro, ma ho deciso di continuare la vita che ho iniziato appunto da un anno a questa parte e di non accettare un incarico di supplenza annuale. Avete capito bene? Sarei potuto diventare professore per un anno e niente, ma alla fine ragazzi la vita è come una scatola di cioccolatini. Diceva Forrest Gump, non sai mai quello che ti capita e a me per ora è capitata questa vita germanica, tedesca, fatta di tante avventure, a volte di rotture, tipo che mi hanno rubato la bici, tipo che mi hanno investito il furgone, tipo che me ne succede quasi ogni giorno una, però sapete che c'è? La vita è bella proprio perché è imprevedibile. L'importante ragazzi è remare a testa alta e trasformare i problemi in opportunità. Per esempio in questo ultimo periodo sto camperizzando la mia macchina, oltre che sistemare il mio camper. oggi avevo fatto un danno ad un tavolo che stavo costruendo, ho fatto i pochi della parte sbagliata. Sapete come molte persone sarebbero disperate, ma sapete invece come ho trasformato questo brutto problema in una grande opportunità, applicando sopra una grafica, migliorando esteticamente tantissimo il tavolo. Lo vedrete in un video, appunto sul canale principale. Ma è questo che intendo. Trasformate sempre e comunque i problemi in opportunità. Il meccanico del camper mi ha sbagliato un sacco di lavori. Potrei disperarmi, invece sapete che ho comprato trapano, silicone, attrezzi e mi sto facendo i lavori da solo. Diceva mia nonna, anzi lo dice ancora perché ancora è viva, si spera il più possibile. impara l'arte e mettila da parte. Perché vi sto dicendo tutto questo, ragazzi, in questo video whispering? Spero comunque che vi stia facendo rilassare, quantomeno se non addormentare. Perché ognuno di voi, anche tu che forse sei il più stupido, cioè non tu, proprio tu, ma magari facciamo finta che questo video avrà duemila visualizzazioni. Su duemila persone e ce ne sarà una super stupida, deficiente. Quindi sto parlando con te, persona super stupida e deficiente. Anche tu sei un grande. Anche tu, se ti impegni, se credi nei tuoi sogni, nei tuoi obiettivi, se ti prefissi soprattutto un obiettivo, lo raggiungerai anche tu, che tra i duemila spettatori di questo momento, di questo video, duemila visualizzatori, che sei il più stupido, devi credere in te stesso, devi lottare, devi essere la persona, la versione migliore di te, anche se sei stupido. Non parlo con te, magari, che mi stai guardando, parlo con quella persona lì. Adesso parlo di nuovo con te, ti devi impegnare. E lo stesso vale per te, che non sei il più stupido, che magari sei nella via di mezzo tra queste duemila persone, che poi è la maggioranza. Impegnatevi. L'unico limite è che siamo noi stessi, ragazzi. Io lo so che direi, ma se fossi ricco sarebbe più facile. Ok, ma i ricchi hanno altri problemi. Noi che siamo una via di mezzo, magari, che non siamo sotto un ponte, ma non siamo nemmeno benestanti o ricchi, ce la possiamo fare impegnandoci, superando i nostri limiti, cercando un obiettivo e lottare, lottare, lottare. Spero che questo whispering ti abbia fatto addormentare, ma se non stai ancora addormento. Cazzo. Cazzo. Credi in te. Addormentati. Credendo in te. Adesso gli do dei baci incoraggianti. Vi racconto un piccolo aneddoto. Io vivo appunto in Germania, vi sto dicendo. Praticamente c'è stato un progetto di persone, una gang che faceva delle rapine, che è stata presa e messa in carcere. Praticamente loro avevano organizzato un sistema, erano 30 persone che a giro, incrociandosi a volte, facevano rapine anche contemporaneamente a banche e altri posti, supermercati. L'hanno fatta franca diverse volte, poi però sono stati arrestati e messi in carcere. Tutte queste persone però, dove si erano conosciute? Si erano conosciute durante i testi d'ingresso all'università aureonatica. Tutti volevano volare. Tutti avevano questo sogno. Ora vi starete chiedendo perché ci stai raccontando questo. Adesso capirete. Praticamente qua in Germania è molto importante, quando si viene arrestati, ovunque c'è la carcerazione addirittura per reati molto gravi, cercare un percorso di reinserimento nella società. Venendo a conoscenza che tutti loro si erano conosciuti durante un test d'ingresso all'università di aeronautica, hanno deciso, il ministerino, non so chi comunque, il giudice, di far frequentare a questi carcerati una classe e di fargli seguire un corso su come pilotare e addirittura costruire aerei. Bene, questi 30 studenti, che ripeto erano dei rapinatori, non avevano in realtà mai studiato, non erano andati a scuola, sin da piccoli sono stati buttati nel mondo della malavita. Hanno quindi seguito questo corso. Il progetto finale, l'esame finale, era quello di costruire addirittura un aeroplano con le loro mani e con la loro conoscenza. Passarono i giorni, i mesi, addirittura gli anni e finalmente arrivò il giorno in cui l'aeroplano fu pronto e addirittura diedero a loro la possibilità di invitare chi volevano, le famiglie, gli amici, i parenti, i professori, chi volevano su questo volo. Finalmente arriva il momento del volo. Ovviamente tutti invietati, no? Teoricamente l'aereo era sold out, strapieno per questo primo test, ma nessuno si presenta quel giorno, nessuno, tranne il professore di questi trenta studenti che si siede sull'aereo e pensate, non indossa nemmeno la cintura di sicurezza. Al che allora c'era anche una truppo di giornalisti un po' a documentare tutta questa storia, salgono sull'aereo e gli chiedono, professore, lei è l'unico che ha preso posto su questo velivolo, è l'unico che è salito sull'aereo costruito dai suoi studenti, com'è possibile, com'è lì? La risposta del professore, ragazzi, fu straordinaria e rimase negli annali della testata di questi giornali per anni, per questo ve lo sto raccontando. Bene, lui rispose, sono stato un professore di questi studenti per più di vent'anni, li conosco come le mie tasche, li ho praticamente cresciuti e so benissimo le loro capacità. Questo aereo vi assicuro che nemmeno si accenderà. Zedos, tankesho. Per questo video, quindi, è tutto. Mi raccomando, lasciate un like e imparate a credere nei sogni. Vi aspetto anche tra i commenti. Ci vediamo ad un prossimo video qui sul canale. Whisper.